Idea web con Giorgio Salomoni, allenatore della Bama Mercato Cuneo, pochi minuti dopo il successo per 3-1 contro la Cogalvolle in Sevigliano. Coach, una partita ben giocata dei suoi con solamente un piccolo calo di tensione nel secondo set. Sì, beh, ti ringrazio per il ben giocato, non sono particolarmente soddisfatto di questa partita perché potevamo giocarla meglio. Secondo sé siamo stati veramente poco, poco, poco incisivi per non dire di peggio e gli altri set aspettavano gli eroi degli avversari. Non abbiamo espresso un gran gioco stasera, abbiamo preso i tre punti e siamo contenti ma non sono soddisfatto della prova. Dal punto di vista tecnico si può sottolineare la prova del muro, un po' assente nei primi due parziali però nel terzo e quarto set è sicuramente molto decisivo. Sì, diciamo che il muro con la fisicità che abbiamo nella squadra dovrebbe essere il nostro punto di forza. Abbiamo murato bene il terzo e quarto set, come dici giustamente tu, i primi due abbiamo sbagliato un pochino. Ha sulle spedizioni un gruppo molto giovane che partecipa anche al campionato degli amici al mese. Quali sono i vostri obiettivi per questa annata? Noi fondamentalmente la politica dell'Alcuneo Voli è di far meglio che può con tutte le squadre del settore giovane. Noi siamo la punta dell'Albi, cioè siamo la squadra più vecchia, l'Under-19. Facciamo questo campionato di C per fare esperienza, per perdere anche delle partite, magari controversali più esperti di noi, però per prepararci al meglio alle finali regionali e poi se avremo la bravura e la fortuna di vincerle e poi di figurare bene alle finali nazionali. Grazie mille, Cozzo. Prego, grazie a voi.